Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su Dirt Rally 2.0, pronti per affrontare la tappa numero 4, il rodeo. Dove avremo un dislivello di 600 metri, un orario inizio ore 17.15, il meteo sarà nuvoloso, quindi sarà sicuramente una tappa un pochettino buia, visto l'orario e il meteo. Quindi dobbiamo stare attenti perché anche questa volta non sarà facile. Ok, praticamente ragazzi in questo campionato un po' per errore, un po' va meglio così in modo da rendere la cosa un po' più veloce e automatica possibile. Secondo me avendo messo senza area di servizio avremo praticamente delle riparazioni automatiche e i shakedown ce li abbiamo soltanto nella prima tappa di ogni località. Ok, meglio così così è più rapido e veloce l'inizio di ogni partita. Niente, tiriamo il freno a mano quando siamo pronti, tirando il freno a mano avvierà il conto della rovescia e siamo pronti per partire. 5, 4, 3, 2, 1, via! 30, 3 sinistra lunga e 5 destra, apre sul crinale. 30 su dossi, 4 destra lunga, apre sul crinale e dossi. 4 sinistra, non tagliare, tornante a destra e 5 sinistra. 30 su dossi, tagliare 6 destra e 1 sinistra lunga. E tieni la destra e non tagliare, 4 sinistra e 5 destra, 30. 3 sinistra, 6 destra, 30 su dossi. Lenta, 5 sinistra e non visto, tornante a destra e 1 sinistra. 30 su dossi, 4 sinistra, lunga sul crinale, 30. Tornante aperto a sinistra, 5 destra, lunga, stringe. Tornante aperto a destra, non tagliare, lunga. 30. Non visto, tornante a sinistra, apre, 1 destra, apre. 2 destra, 30. 2 destra lunga, stringe, 1 sinistra. 2 destra lunga, stringe, 1. 1 sinistra, molto lunga, apre, stringe, 5 destra, lunga. 2 sinistra, taglia poco, 30. 4 destra, non tagliare, 1 sinistra lunga, stringe, 50. Tieni la sinistra su crinale, in 5 destra, non tagliare, 30. 5 destra lunga, stringe, 1. 2 sinistra lunga, apre. 6 sinistra su crinale, 30. Non visto, 1 destra lunga, stringe, 50. Tieni la sinistra in 4 destra, non tagliare. 4 sinistra, molto lunga, stringe, 2, stringe, 30. 3 sinistra lunga, tra quanto, 70, allo stop. Ok, tappa completata ragazzi. È stata un po' più facile rispetto alle scorse tappe, per la visibilità che sembrava essere pesante, ma in realtà non era poi così pesante. Tappa completata, ben fatto. Ok, la nostra vettura sempre più sporca e zozza, però questa volta ho, ci siamo aggiudicati, ho finalmente una quinta posizione, vediamo gli appunti, carrozzeria, temperatura motore elevato, braccio dalleggiato, abbiamo ancora quello come danno, siamo in quinta posizione. Meno male ragazzi, abbiamo recuperato. Quindi siamo in tredicesima con la Volkswagen Polo. Sono curioso di vedere chi è in prima posizione, che modello di macchina è la Peugeot 208 T16 R5. Poi abbiamo la Citroen alla terza posizione, la Ford Fiesta in quarta e poi Polo e Peugeot sono sempre più o meno lo stesso. Niente ragazzi, concludiamo qui questa partitozza. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Non mancate, vi ricordo sempre che l'appuntamento per The Trally 2.0 è il lunedì, martedì e mercoledì e venerdì alle ore 16.30. Mi raccomando, non mancate. Spoliggiate per supportare la serie, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti ragazzi.